e rieccomi ragazze con un altro nuovo video come promesso sto registrando un video con sempre col telefono galaxy samsung e vi voglio recensire i pochi prodotti che ho finito ovviamente uno è il dentifricio della sensodine che sarebbe questo qua sensodine vedete ed è ce n'è 75.000 il prodotto che io tonto l'ora che non sono altro stava mandando a comprare a sabone profumi qui in sardegna parau e ahimè purtroppo volete purtroppo non ho visto dove la sensodine ho preso menta apposta di sensodine che è tonta che sono dove lasciamo perdere perché sul apposto del menta del sensitive vicino dalla parte di tutti gli dentifrici che c'erano in vista a secolo profumi vi era anche un altro vicino al senso dai io posso vedere il senso dai ho visto un altro dentifricio tonta io che l'ho visto uno che non era non era senso dai e ne ho preso un altro e comunque questo ci trovo benissimo molto buono e è fresco come dentifricio e mi aiuta contro l'assessibilità dentifricio e gengivale e dei denti punto poi anche un buon profumo tra l'altro sa proprio di mentolo tipo il mio come ho detto un altro video registrato poco fa sa proprio di mentolo come il mio deodorante non mi ricordavo il nome vabbè poi per un ultimo prodotto è un altro che ce n'è tanto un verde esso 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 placca colluttorio cosmetico generale quotidiana barriera protettiva antiplacca ed è questo ragazzi anche questo non è male per niente e mi ha fatto scusate un attimo profumo di denti di colluttori di tutto quello che voglio io però sapete che io vado a matta questi profumi perché basta che io profumo sto bene vabbè quelli sono dettagli però è così e si tanto un verde troppo buono come è buono questo in combo questo top ci piacciono vedete questo qua è il tanto un verde top 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 vedete questo è san su senso da anche samsung sto dicendo senso dai vedete poi 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 ultimo ma non per importanza c'è altri no e busta finita mantovani mantovani gardenia più protezione con vitamina e collagene vegetale alla gardenia sia un dollar di mia neutro termoprotettivo bagno doccia ipoallergenico neutro molto buono si top vedete questo è il mantovani è un po curioso un po strani perché telefono nel massimo vabbè notte le fai buono solo che non sono capace mettere le cose bene che buono dolcissimo mi piace tanto ma questo l'ho rotto è solo che ho messo male comunque e sì questo è ci concentrano il prodotto come quello che avevo detto prima io nell'altro video che vi ho mostrato che vi ho caricato e pubblicato 12 mesi di pausi mi piace molto buono manto vani vedete manto vani ecco qua si vedrà qualcosa sia voglia e niente profumazione fantastica non c'è che dire sa di pulito sa di buccato non so perché non piace si riuscirà a romperlo ok e niente ragazzi adesso qua rimetto tutto dentro perché tanto sono solo tre gatti in croce e tre cose in croce io questo lo rimetto qua mi saluto ringrazio perché veramente siete graziosi con me affettuosi grazie mille e comunque con il bagno schiuma pulisce il profuma e lava bene il buon collutorio fa un buon effetto di pulito effetto come dire no una buona pulizia generale e attrattificio non è male pulisce mi toglie tutta la sensibilità non tutta però fa sì che non sento quando bevo acqua acqua troppo fredda o tisane troppo calde ovviamente aspetto per avere tisane troppo calde mi potresti ostionare tutta la bocca non mi sembra il caso già e quindi niente ragazze questo era tutto io vi saluto ringrazio vi bacio vi abbraccio e ci vediamo un prossimo video ciao a presto un bacio vi voglio bene ciao